No, 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 di fatto ho detto a De Angelis molto prima che fossi espulso dall'arbitro delle cose che poi lui doveva fare, suggerite io, l'ha fatta lui, l'ha fatta lui, no, no, l'espulsione è matematica, io uscivo anche se non mi buttava fuori, perché sono entrato 30 metri dentro il campo, e ci mancherebbe non essere espulso con l'allenatore che entra 30 metri dentro il campo, giusta e meritata. Ti sarei ricordato un po' di Cisimoni, il famoso intervento sull'entrata di campo, allora, per vedere le fasi potenti, oggi comunque si è visto, in presenza, i poteri passi, un po' come l'ha in Italia qualche anno, nel primo tempo, nel quale è stata lasciata, diciamo, l'inforzamento presentato, nella ripresa un piglio decisamente diverso. No, diciamo che ci vorrebbero intanto dei time out, come ha detto Murigno, Guardiola, eccetera, i grandi allenatori dicono che ci vorrebbero due time out, a metà del primo e a metà del secondo tempo, perché i ragazzi, soprattutto nelle prime 10-15 partite, ancora non hanno bene, si perdono in alcune cose, che magari poi dopo, quando hai una squadra collaudata, è un po' meno, però diciamo che il Cosenza fa anche quello che gli permettono gli altri, sul piano del palleggio è normale che la percentuale di errore di possesso, la casertana è nettamente inferiore a noi, noi giochiamo con le nostre armi, che non sono difese e contropiede, ma sono organizzazione e sono ripartenze e sono cose che si fanno nel calcio quando si hanno determinati calciatori, dunque io in settimana avevo detto la casertana almeno per un tempo e un po', 60 minuti, giocherà meglio di noi, perché queste cose si capiscono, si sanno prima sapendo come giocano le squadre, chi sono i calciatori, gli interpreti, invece il calcio poi ha parecchie sfaccettature che diciamo che fa meglio non vincere, perché potevamo non vincere, ma la soddisfazione c'era lo stesso, quella che usa le sue armi e le armi dell'avversario le limita, secondo me questa è la cosa che si può fare, secondo me di diverso credo che nessun allenatore può fare, dunque io sono veramente strafelice perché vedere questi ragazzi come a Catania e come oggi dare il 120%, anche in situazioni come sapete di estrema difficoltà, diciamo di qualche giocatore importante che manca oppure qualcuno che è dovuto uscire come Ciancio, ma vedere Guerriera che entra così, ecco la cosa che ancora ci manca è un po' di fiducia, ma credo che queste due partite in quattro giorni, dal punto di vista anche della condizione, io avevo detto che giocare anche ogni tre giorni è meglio che non giocare, mi sa che ci avevo azzeccato questa volta, dunque sono veramente contento perché la prestazione è stata anche fisica migliore, anche perché è meno caldo, e poi anche perché la convinzione viene con le cose che facendole ti vengono bene, non si può mai inventare niente nel calcio, secondo me, dunque sono molto contento. Non si è sempre stato in partita, non si è sempre stato in partita, il primo tempo ha avuto le sue oppressioni, non le ha sfruttate, poi al secondo tempo è andata una mazzata quando la città ormai pensava di capire? No, beh, così è andata la partita, perché è normale che questa impressione che si ha quando una squadra è sotto, è quella che le cose vanno tutte male, poi magari ribalta e allora va tutto bene, non funziona così, non meritavamo di perdere nessuno dei 95 minuti, e dunque abbiamo vinto, ma secondo me magari il pari ci stava benissimo, perché la Carrietta è una grande squadra, poteva chiuderla come concetto, ha avuto delle situazioni, non proprio occasioni, ma insomma delle situazioni, poteva chiuderla, però veramente devo elogiare questi ragazzi che anche oggi hanno dato veramente tutto. No, l'ho detto prima, Meluso come me ha meritato di essere espulso, mi dispiace per Mauro, ma in piedi ci può stare solo l'allenatore, e dunque lui era in piedi, è stato espulso, qualche volta non succede, anzi spesso non succede, perché in piedi c'è spesso, però questa volta è successo, non si può dire niente quando ce ne meritiamo. Da un punto di vista tattico, ma il caffè lo vuole facciare anche in corso, che ho visto poi l'ingresso di Diego, sei soddisfatto del lavoro di agente campistica e strada? No, sei molto soddisfatto di tutti, anche perché abbiamo fatto la prima parte con un 352, che è normale che Statella, che lo fa, secondo me lo può fare benissimo, qualche volta si accentrava troppo, però le cose che la Casertana fa, io ho visto le ultime tre partite della Casertana, ha fatto, credo, una quindicina di occasioni da gol in tre partite, e oggi secondo me ne ha fatte tre, quattro, due, tre, non so quante, dunque questo è grande merito anche ai ragazzi tatticamente, perché hanno permesso poco, dai, hanno permesso poco, non puoi togliergli il palleggio e giocata di giocatori per questa categoria fantastici, come sapete, dunque, però, e poi dopo siamo tornati invece al nostro classico 4-4-2, e l'hanno fatto molto bene, sono molto contento per Guerriera, no? Perché dalla parte destra, allora, non mangia Casale che attacca di più, Statella è tornata a destra dove c'è invece Tito che attacca di meno, squadra equilibrata e un pizzico di fortuna, perché senza quello non si può vincere, ma penso alla fine non abbiamo rubato nulla. Il contesto è venerdì, ma rientra venerdì, ce l'avremo venerdì solo alla rifinitura, e questo è un problema, ma la condizione di Lamantia, di Arrighini e di Raimondi è in netta crescita, dunque siamo contenti perché il risultato e le prestazioni ci permettono di portare questi giocatori che come sapete tutti erano al 50%, ora sono salite 60-70%, ci permette anche psicologicamente di recuperarli meglio. C'è qualcosa da recriminare sulla partita, lei sul gioco della tua squadra, avete voluto vedere qualcosa di meglio? Perché avete visto molto agitato la partita? No, no, io non mi agito mai per come gioca la squadra, o come gioca un giocatore, perché non sono io lì, io avevo i piedi buonissimi e sbagliamo meno. No, scherzo, ma non dirò mai a un calciatore se sbaglia qualcosa, io dirò sempre qualcosa al calciatore che sbilancia la squadra, che non fa le robe dal punto di vista tattico non giuste, tipo esce su un avversario quando per dire ha molti appoggi, robe tattiche che il vantaggio dell'avversario deve avere le sue armi, giocare, ma non con il vantaggio del Cosenza. Un'altra cosa diceva l'autore della Pesettana che loro hanno sbagliato, perché purtroppo sono scivolati nei momenti in cui hanno preso il gol. Sono sincero, il nostro campo è fantastico perché mi hanno detto che non è mai riviata una partita per pioggia, è fantastico, è il capo bello. Però secondo me questo è vero, che non verrà mai riviata una partita, ma quando piove è particolare, questo bisogna riconoscere, anche i miei giocatori lo dicono, è la verità. Posto? Grazie mille.